Mi trovo a Taranto, precisamente in via Regina Margherita, ad angolo con Corso Umberto, a pochi metri dal ponte Girevole, quindi come dire in una zona non centrale ma centralissima di Taranto. Qui, forse uno o due mesi fa al massimo, è stato rifatto l'asfalto, il manto stradale. Credo che siano stati lavori fatti da Enel per accordo col Comune, ma in ogni caso guardate che scempio che c'è qui, proprio a ridosso del marciapiede, un cratere, un baratro, qualcosa di vergognoso. Già quest'estate c'era stato uno sprofondamento, un piccolo sprofondamento, piccolo per modo di dire, ma si è allargato sempre più. Allora guardate, io penso soprattutto all'anziano, alla persona che non ha i riflessi molto pronti, che non è molto sveglia perché magari poverina ha problemi di deambulazione, perché ha problemi di età, perché ci sono degli handicap fisici, allora io scendo dal marciapiede, non mi rendo conto del baratro e vado a finire qui. Guardate, entro proprio con il piede sperando di non sprofondare. Guardate com'è profondo, guardate. Guardate, qui c'è anche un ferro, guardate. Se io vado a finire qua dentro, non lo so dove vado a finire, vedete? E se una persona sbatte, si spezza in due, poi cosa succede? Che la persona giustamente chiede i danni al comune, viene condannato il comune di Taranto e giustamente poi a pagare il comune di Taranto. Ma quando paga il comune di Taranto non è che è Babbo Natale che paga, ma siamo noi contribuenti che paghiamo con le nostre tasse, perché il comune è un soggetto, come dire, astratto, tra virgolette, che ha le casse comunali che si riempiono con i contributi di noi cittadini contribuenti. Quindi non è che paga Babbo Natale, paga l'ente comune, ma a pagare in realtà siamo noi. Allora qui torniamo sempre al solito discorso, i lavori pubblici, i funzionari, l'ufficio dei lavori pubblici, il settore preposto deputato al controllo delle manomissioni del suolo. Ufficio, ufficio, manomissioni del suolo. Allora, guardate, voi funzionari dovreste sgambettare, girare per la città, l'Enel o chi per lei ha fatto i lavori, il comune con una propria ditta ha fatto i lavori. Bene, si va sul posto e si controlla. Cara ditta, cosa hai fatto? Uno schifo. Vieni e ripristina come stava prima. Ma non è possibile una cosa del genere. Bene, io ho segnalato la questione, l'avevo segnalato a più soggetti, qui gli assessori ai lavori pubblici cambiano ogni giorno, l'avevo segnalato a Ciraci, poi è stata la volta di Manzulli, poi questo sindaco Melucci cambia assessori come cambia le camicie e quindi chiaramente si viene a creare una discontinuità e i problemi non vengono risolti. Ecco la gravità di avere Melucci come sindaco, la disgrazia politica, perché mentre un assessore si sta insediando e bene o male cerca di portare avanti un certo discorso, seppure gli assessori di Melucci non sono assolutamente chissà che cosa, il livello è medio-basso dal punto di vista politico-amministrativo, ma mentre un assessore sta cercando di fare qualcosa, nel bene o nel male, immediatamente change la dame, a zero vento di giunta e ne arriva un altro e poi un altro ancora. E non c'è quel minimo di continuità amministrativa, gli assessori cambiano e il degrado e i pericoli restano. Pensate e concludo che qui si potrebbe trovare un vostro familiare, una persona anziana, un vostro parente portatore di disabilità. Vi piacerebbe che andasse a frantumarsi il corpo, le ossa, qui davanti, qui sotto? Penso proprio di no. Vergognati sindaco Melucci, vergognati e sparisci politicamente da Taranto. Neanche l'ordinaria manutenzione sei capace di far fare. Levati da mezzo una volta per tutte. Levati da mezzo una volta per tutte.